Ciao, noi siamo gli Indie Boys and For Old Girls, io sono Alessandro, lui è Claudio e lui è Daniele. Il 26 novembre suoneremo al Blackout insieme a Rezophonic grazie a Speedpings. Ricordiamo che Rezophonic sono impegnati in un progetto insieme all'AMREF per la costruzione dei pozzini in Africa, soprattutto in Kenya e Tanzania. A gennaio uscirà il nostro primo disco che si chiama Into Unconsciousness e conterrà 10 tracce. Di solito siamo più felici. Ci trovate su internet digitando su Google Indie Boys and For Old Girls. Oppure il nostro icono I-B-A-F-H-G. Grazie a Speedgigs. Grazie a Speedgigs. Grazie a Speedgigs. Grazie a Speedgigs. Diciamolo insieme, facendo così. Grazie a Speedgigs. Ciao, ok? Ciao. I-B-Boy's Heart For Old Girls. Perfetto. Grazie a Speedgigs. Grazie a Speedgigs. Grazie a Speedgigs. Grazie a Speedgigs. Grazie a Speedgigs.